Vivi, lascia vivere, che tutto può succedere, niente è impossibile, se viaggi oltre i limiti. Faccio arte e cerco di trasmettere un messaggio appunto a chi mi ascolta e chi mi ascolterà, quindi la cosa che arde dentro è importante, perché qui è la sensazione di tutto. Riccardo è un ragazzo che arriva dall'alta Valtiberina, nell'Aretino, di appena vent'anni. Fin da piccolo ha coltivato la passione per la musica, prima gli studi, poi l'avventura di scrivere e pubblicare pezzi suoi. Quando nasce questa passione? Ma nasce sin da piccolo, quindi da quando ho sei anni, pensi, mi ricordo anche la data. Canto con mia madre, con mio padre, con i miei genitori e mi ha sempre affascinato l'idea di poter scrivere canzoni, di incidere, di creare appunto singoli che potessero portare poi alla luce dei messaggi importanti, soprattutto per noi giovani, che è una generazione molto sensibile e allo stesso tempo vulnerabile. E far passare notizie di me attraverso ragazzi della mia stessa età è motivo di orgoglio attraverso delle song che ho il piacere poi di farle ascoltare a tutti quando sono sugli store, quando sono su YouTube, quindi quando sono disponibili al grande pubblico. Ora più che mai non bisogna rendersi, ora più che mai conta solo muoversi. Il sogno nel cassetto diventare un cantante pop affermato. Il sogno di fare il cantante, sì, il sogno che sto coltivando ormai da due anni e che è veramente difficile perché non è facile, ma ci si sta provando, do tutto me stesso, più la recitazione, è un altro campo su cui mi sto specializzando, appunto a Roma. Il prossimo progetto è in cantiere, uscirà presto, entro fine dell'anno, quindi vi dico di rimanere connessi e di continuare a seguire i miei canali. Sì, allora su Instagram Firelight, lineetta bassa artist, rettifico perché in molti si confondono anche con l'acqua lete, cioè fanno delle cose molto importanti, Firelight, H tra la G e la T, tutto attaccato, Fire, fuoco, light, luce. È il fuoco, la luce, ovvero la forza di vedere i sogni, la luce, di andare avanti contro tutto e tutti, è il fuoco, l'ardore che ci metti, la passione. E niente, quindi anche su YouTube mi potete seguire con il mio canale di riferimento, ovvero Firelight. le mie canzoni che le elenco. Ti aspetterò qui, resta con me, un solo sguardo, Generazione Z, Perfetti Sconosciuti, ora più che mai, 10 ottobre, Vivi e Lascia Vivere. Quindi questa è la mia discografia completa, potete vedere tutti i video lì e su Spotify sempre con il mio nome d'arte. Grazie. 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 Grazie.